c'era una volta un imperatore era molto vanitoso sono veramente meraviglioso sono un genio questi vestiti sono solo per le persone intelligenti infatti gli stupidi non riescono nemmeno a vederli questi vestiti che cosa ne pensate? l'imperatore sussultò perché non riusciva a vedere i vestiti? di certo io non sono un idiota mutande mutande non sono sicuro che questo sia il mio stile